Si aumentino di nuovo le tasse, c'è il tema della sicurezza, c'è il tema ovviamente del famiglia che deve essere rimessa al centro con una manovra che aiuti finalmente la famiglia. Sono questi i temi che affronteremo, certi che il Presidente Gentiloni ha la coscienza che questo non è un monocolore del PD e il Paese non può continuare a stare, a guardare quello che accade all'interno del suo e del Congresso del Partito Democratico.